Ora però è arrivato il momento di capire quali sono le web star più amate Non vi nego di aver chiesto una piccola consulenza Ho chiesto aiuto a un uomo, un assoluto esperto Un applauso per Iacopo Morini Grazie! Ale Cattelan! La sfida di cui ti parlavo consiste in questo Quando eravamo piccoli, giocavamo a chi ride prima In svizzero tedesco si dice Partiamo Avevo retto così bene Ehi maccio! Come stai? È maialino Ho fatto una battuta molto brutta Però tu ridi Frank Matano è qui al web night show Mi sto cagando sotto Iago Ok, Frank Matano è un'entrata stupenda Pericolosissima Prova a fermarti Mi è uscita un'ernia signori Oh, ciao Iago Signori, Frank Matano Stomaco, ho le farfalle nello stomaco che... Ma che cosa c'hai? Veramente? Lo stomaco Le farfalle che compongono il nome Benet Fammi vedere che cosa c'è in tutta la tarda Che fanno? Si prende il portafoglio L'evento dell'anno Migliaia di persone in delirio Centinaia di migliaia in live streaming Sul palco le più grandi star del web e della musica rap Ma quante siete? Questa sera su questo palco premieremo Youtubers Gamers Facebook star Oggi so che ci sarà un tema particolare per questo grande evento Il tema è... supereroi, signori Con super problemi Questa città ha bisogno di noi Ma non succede un cazzo da tre mesi in questa città